Buongiorno amici bentrati sul canale Jacopo di Livitali, oggi voglio riportarvi un post interessante che mi ha girato un mio ex collega indiano e questo post è relativo alla situazione del mondo del lavoro per in particolare gli informatici indiani in India e qual è la differenza per loro di lavorare in India lo stipendio che percepiscono in India e in Inghilterra, per chi non lo sapesse, per chi non fosse troppo del mestiere negli ultimi vent'anni c'è stata una collaborazione molto stretta tra il mondo cosiddetto occidentale le grandi aziende, banche, multinazionali, qualsiasi grossa azienda si sono quasi sempre appoggiate a manovalanza la chiamo manovalanza ma comunque sono persone specializzate e molto competenti la manovalanza tecnico-informatica indiana gli indiani sporano ogni anno milioni di ingegneri informatici hanno sempre avuto un pool di tecnici molto grande quindi le relazioni tra il mondo dell'informatica e penso non solo comunque in particolare dell'informatica e il mondo occidentale sono negli ultimi vent'anni state molto vicine molto importanti immaginatevi una grande azienda che ha magari il supporto informatico, la gestione di server, applicazioni in parte tra virgolette delocalizzata in India questo è una cosa che non è nuova c'è da come vi ho detto da ormai vent'anni, da quando c'è internet perché evidentemente il costo di questi informatici, di questi tecnici era molto basso estremamente basso se delocalizzato in India ora, questi tecnici, questi informatici indiani spesso avevano l'ambizione e il sogno di venire a lavorare o negli Stati Uniti o in Inghilterra dove magari il loro cliente, la banca X, si trovava ed era prassi, e tuttora in parte prassi sponsorizzare i talenti migliori o i tecnici più in gamba per portarli o a New York o a Londra giusto per capirci questi giustamente dicono, visto che mi trasferisco nell'Occidente libero lo stipendio è molto più alto, più possibilità di crescita mi avvicino al management occidentale questa era la logica che seguivano gli, questi indiani, questi specialisti indiani ora, è molto interessante notare come la situazione sembra quasi, quasi ribaltata perché se vent'anni fa assumere un tecnico informatico poteva costare, non lo so, 10.000 sterline questo era lo stipendio che riceveva Mari in India adesso, a quanto pare, gli stipendi indiani per chi lavora in India sono talmente alti sono quasi uguali a quelli dell'Inghilterra cioè, vi rendete conto? il gap è talmente piccolo che per un indiano, oggigiorno, trasferirsi dall'India a Londra o comunque quasi tutto il lavoro a Londra, lo sapete non conviene più perché il costo della vita in Inghilterra è altissimo o comunque è sugli standard occidentali ma lo stipendio non è molto diverso da quello che percepiscono in India e il post dice, ve lo traduco velocemente 43.000 sterline lord di stipendio in India 43.000 sterline annue con un affitto molto economico mi sa che dovrei considerare di trasferirmi in India questo lo dice uno che evidentemente vive o in Inghilterra o in Europa come mai nessuno dall'India vuole venire nel Regno Unito con stipendi simili tasse più alte e un costo della vita molto più alto un mio collega in India mi diceva che gli ingegneri, i tecnici informatici che fanno 40.000 sterline lorde in India pagano degli affitti di 240 sterline al mese in India per affittare un buon appartamento a due camere da letto in una zona bella con 240 sterline al mese non puoi nemmeno affittarti una camera nella maggior parte del Regno Unito includendo aree in cui non vorresti vivere ovviamente e dove c'è pochissimo lavoro ma non penso neanche che esistano affitti a 240 sterline al mese comunque anche nei posti peggiori dell'Inghilterra mi ricordo un reclutatore che mi diceva che nel 2011 non era in grado di far trasferire un ingegnere in India dall'India all'Inghilterra perché già guadagnava 50.000 sterline là in India questo nel 2011 e pensavo che fosse una superstar fosse un'eccezione l'ingegnere informatico che prende 50.000 sterline all'ora in India nel 2011 per prendere quei soldi ma i miei colleghi stanno parlando di regular senior engineer role ovviamente sono passati 13 anni quindi questi stipendi si sono alzati molto in India e allora il post finisce dicendo mi sa che probabilmente dovrei pensare di trasferirmi in India quindi qual è il succo di questo video? che l'India ha avuto una crescita di stipendi enorme enorme notevole che ha quasi raggiunto uno a uno con l'Inghilterra e il resto d'Europa il costo della vita resta molto basso rispetto a quegli stipendi perché 240 sterline al mese di affitto non 1200-1500 e il lavoro che fanno è lo stesso che farebbero qui in conseguenza vediamo che l'Occidente declina con stipendi stagnanti da 10-15 anni che non crescono il costo della vita è esploso tasse che continuano a salire mille problemi che tutti conosciamo mentre posti come l'India sono a quanto pare molto migliori del nostro mondo perché in India uno specialista guadagna quasi come in Europa ma il costo della vita è 7 volte di meno 8 volte 10 volte di meno poi mi potrete dire ah in India non ci vado fa schifo quello che volete però arriverà il punto in cui forse molti cominceranno a andarsene persino in India perché l'Europa inclusa l'Inghilterra sono saranno diventati invivibili capito? questa è la situazione e il futuro non è per niente roseo per noi occidentali ci vediamo presto con altri aggiornamenti dal mondo del lavoro mettete mi piace iscrivetevi alla prossima queste informazioni non le trovate vedo solo io ciao ciao